lunedì 2 agosto benvenuti occhio ai giornali su fano tv canale 17 del digitale terrestre visibile su tutta la regione Marche c'è la rassegna stampa il commento la stampa del giorno con i due giornali che come sempre abbiamo sul nostro touchscreen ovvero il Corriere Adriatico verso il Carlino che vedremo tra poco nell'edizione del lunedì quindi con l'edizione dedicata soprattutto allo sport iniziamo con il santo vediamolo subito il santo di oggi è sante Eusebio il sole è sorto alle 5.57 vedete tramonta alle 20.32 i giorni si stanno accorciando come dire e adesso il tempo Andiamo su trebimeteo.com settimana Italia contesa fra temporali caldo africano ci sono temperature in calo questa notte si è riusciti a dormire bene diciamoci la verità la temperatura era gradevole il caldo si farà però ancora sentire questa è l'Italia questa mattina ma per vedere un po' il cambiamento dobbiamo andare a mercoledì soprattutto nel tardo pomeriggio la sera vedete quando le marche saranno interessate da temporali ma per capire come sarà il tempo oggi ci colleghiamo questa mattina con un nuovo concessionario di spiaggia andiamo torniamo a Fano siamo con Marco Giuliani al Lido 3 buongiorno Marco buongiorno buongiorno a te allora vedo che insomma il tempo promette bene oggi si promette bene un po' nuvoloso adesso ma poveriggio si dovrebbe aprire poco vento ma poco mostro si sta molto bene allora bagni Lido 3 una delle concessioni uno dei bagni più grandi della città di Fano perché mi pare che tu abbia qualcosa come 500 ombrelloni da gestire più di 500 ombrelloni ecco ci spieghi un attimo com'è intanto c'è la sabbia vedo l'acqua è alta bassa raccontaci un po' l'acqua l'acqua è basta e via via si va alzando e poi anche la mattina presto la marea ci permette di tenere sotto controllo molto bene la spiaggia sono pochi casi di salvataggio in questa spiaggia più scogli più ferite ecco quindi Marco mi pare che la clientela sia più che altro diciamo di famiglie o sbaglio? sì famiglie famiglia ragazzini anche signore anziani di una certa età che vengono qua si rilasciano e stanno molto bene c'è per l'ambiente c'è per impareremo a conoscere il tuo stabilimento nei prossimi giorni perché staremo insieme fino a sabato quindi grazie per questo primo collegamento e buon lavoro e buona giornata allora iniziamo con i giornali Movida alta tensione questo è il titolo d'apertura del Corriere Adriatico edizione di Pesaro di oggi gli albergatori alzano l'asticella a quelli di Pesaro ovviamente così non si va avanti e uno di loro si rivolge addirittura alla procura fioccano giudizi impietosi dei clienti degli hotel la città di notte cambia i suoi connotati ma centropagina su tutte le edizioni il Corriere Adriatico come tutti gli altri giornali ovviamente italiani questa mattina la fotonotizia la dedicano a Tamberi che vince nel salto in alto il titolo olimpico un oro leggendario questo è il titolo le notizie in breve sotto chiesa Zoccolette la vendita a Erap è già una cosa fatta camper vaccinali si parte oggi la tappa a Urbino e poi a Fano alla festa del mare il vescovo segnala i problemi del porto di spalla le infrastrutture marchigiane quadrilatero con otto cantieri vietato slittare la fine dei lavori e sotto gli ruba un braccialetto e alla fine lo sfida a duello lo sport buon esordio per la vispesero battuto 1 a 0 il grossetto vediamo adesso invece il Carlino la fotonotizia per i 300 Novax irriducibili sanitari verso la sospensione partono le lettere poi la cronaca in apertura paga pagoa o vi denuncio per molesti e un ex dipendente minaccia il datore di lavoro lui la incontra e porta anche i soldi ma è una trappola e quindi viene subito arrestata spegne il motore del gommone ma lui lo aggredisce è successo a Fano lo vedremo tra un istante nelle pagine interne un bagnino è stato colpito al volto da un 48enne che voleva partire con il gommone a motore praticamente dalla spiaggia sapete che insomma sono operazioni oltretutto vietate dalla legge ma che in qualche modo rendono pericoloso la situazione perché partire accendendo un motore con le eliche dalla spiaggia non è possibile bisogna andare a remi più avanti e poi dal largo si accendono i motori e si parte ma questo qui evidentemente non ne voleva sapere andiamo invece a Fossombrone Fossombrone verso il voto alle amministrative Chiara Billi dice io con Berloni ecco perché poi arrivano le dosi l'ex ristò riapre i battenti prima del previsto dopo lo stop i contagi il trend preoccupa salgono anche i ricoveri poi occhi sulla movida una raffica di controlli nel fine settimana e a Fano vanno a pesca maximulte per l'auto in sosta vicino al fiume di taglio basso lo sport il calcio ancora cannavola vis batte il grosseto vittoria nell'amichevole di Chianciano prime note positive per il 3-5-2 di Bianchini e poi sul fronte del basket della palacanestro Pivò la VL prepara il piano B dopo che Hopkins ha scelto Reggio i dirigenti biancorossi cambiano adesso strategia allora abbiamo detto che all'ex ristò sono arrivati i vaccini per la precisione Pfizer il ristò l'ex ristò apre con 1900 dosi dai numeri delle prenotazioni emerge il ruolo preponderante dei giovani con età variabile dai 12 e 30 anni rappresentano stabilmente la metà dei vaccinanti il boom dopo l'annuncio di Draghi sul Green Pass si è vaccinato almeno con una dose circa il 60% degli aventi diritto residenti nella provincia di Pesaro e Urbino intanto sul bollettino che è stato emesso ieri dalla regione Marche ci sono 33 positivi nella nostra provincia di Pesaro e Urbino i contagi i numeri portano diritti alla zona gialla questo è il titolo nelle Marche registrati 126 casi il tasso di incidenza su 100.000 abitanti adesso è di 55,02 i ricoveri sono in aumento i ricoveri parliamo di una unità non è che parliamo di ricoveri stratosferici comunque sono 31 le persone ricoverate in questo momento nelle Marche 6 le persone in terapia intensiva quindi uno più di ieri uno in terapia semi intensiva e 24 nei reparti covid non intensivi non ci sono stati invece nuovi decessi e poi il Carlino fa la mappa del contagio provincia per provincia intanto i sanitari che non si vogliono vaccinare parliamo di quelli che lavorano nella provincia di Pesaro e Urbino sono circa 300 persone che non hanno dato spiegazioni alle richieste del datore di lavoro e quindi sono 300 persone che adesso avranno veramente le ore contate dovranno decidere se farsi vaccinare all'ultimo minuto e quindi mantenere il posto di lavoro oppure essere licenziati partite 300 raccomandate questo è il titolo del Carlino Asura fondo finale contro i sanitari no vax le lettere sono state inviate ai datori di lavoro pubblici e privati di chi dice no all'immunizzazione stesso documento anche agli ordini chiaramente ordini professionali un decreto legge impone l'obbligo vaccinale e sanitario molti giudici in Italia hanno respinto i ricoveri scusate i ricorsi presentati all'inizio come ricorda il giornale il numero dei no vax o quelli che erano indecisi si aggirava all'incirca attorno ai 2000 sanitari questo era il numero molti di voi lo ricorderanno ai quali poi è stata inviata una raccomandata per sollecitare una loro spiegazione poi mille di loro all'incirca hanno subito risposto con la decisione di vaccinarsi gli altri 700 invece si sono presi del tempo ma soprattutto per eseguire quello che è giusto fare cioè delle analisi mediche per valutare eventuali allergie che in qualche modo possano tranquillizzare sul vaccino e 300 come dicevamo sono invece quelli che non hanno dato spiegazioni sul loro rifiuto e dunque saranno i destinatari di questa ultima raccomandata dopo la quale ci sarà ovviamente la lettera di licenziamento camper per i vaccini si parte oggi da Urbino obiettivo primo è intercettare gli over 60 ancora reticenti o impossibilitati poi in seconda battuta si raggiungerà la costa per dedicarsi ai più giovani dunque partono questi camper vaccinali itineranti da oggi che saranno in tour per la provincia a caccia dei ritardatari oppure degli indecisi e si parte appunto dall'entroterra dove evidentemente tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento che hanno più di 60 anni e che per varie ragioni non sono riusciti magari a raggiungere i punti vaccinali eccetera eccetera adesso hanno questa possibilità in più il camper vaccinale lo si può riconoscere a parte che insomma si farà autopromozione da sé ma comunque ha delle scritte c'è la scritta dell'Asur numero 1 e c'è anche il simbolo della protezione civile mentre sempre il Corriere Adriatico riporta la notizia della morte di un medico molto amato dai pazienti ovvero Gabriele Ripani che è morto era un medico di famiglia amato molto amato dai suoi pazienti soprattutto per la disponibilità la cura e per quel suo modo di sdrammatizzare infondere coraggio è stato un guerriero nella prima ondata di pandemia dove non ha mai negato una visita domiciliare poi un medico sicuro del valore della vaccinazione che è riuscito a convincere i suoi pazienti anziani e poi quelli più giovani a vaccinarsi e questa sera alle 18 in Duomo sarà recitato un rosario mentre domani mattina alle 10 sempre in Duomo saranno celebrati i suoi funerali questa è la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico la movida la movida che preoccupa la movida che preoccupa soprattutto chi ha un'attività come il settore alberghiero Disco e spiagge nel Mirino questo è il titolo del resto del carriere di oggi controllati oltre 300 giovani nei locali è il bilancio dell'attività di prevenzione dei carabinieri un cittadino denuncia assembramenti in Viale Trieste e dunque la situazione che è stata che si è creata dopo la scelta dell'amministrazione comunale di Pesaro di gestire la movida su Viale Trieste di mettere lì la movida è una situazione molto difficile molto delicata che sta creando notevoli disagi soprattutto ecco qua il Corriere Adriatico soprattutto agli albergatori gli albergatori che adesso dicono basta e ce n'è uno che è andato persino in procura perché? perché per la prima volta dopo anni di buon servizio per l'accoglienza turistica in città fioccano sul portale booking.com che è un sito internet che dà la possibilità di prenotare appunto gli alberghi quindi anche le vacanze fioccano su questo portale molto seguito molto importante che ha milioni di persone che lo utilizzano in tutto il mondo fioccano recensioni negative cioè la gente parla male del soggiorno a Pesaro parla male di quell'albergo ma non perché i servizi non siano graditi ma perché alle due di notte ancora non si riesce a chiudere occhio alle tre di notte ancora ci sono gli schiamazzi che tengono appunto i turisti con gli occhi aperti e ovviamente quando uno va in vacanza è vero che vuole divertirsi ma vuole anche riposare e quindi che cosa succede? Gli albergatori incassano impotenti tutte queste lamentele e quindi così frustrati se ne vanno poi e cercano di porre rimedio in questo caso l'extrema razio è quella di andare in procura e quindi di cercare di risolvere qualche cosa anche perché forse non tutti lo sanno ma queste recensioni sono fondamentali per gli albergatori così come per chi ha un'attività commerciale e quindi si fatica tanto per far sì che tutte queste recensioni siano per lo meno a cinque stelle e quando cominciano ad arrivare quelle a una stella a due stelle quindi recensioni negative rovinano tutta la media degli anni e dei mesi passati quindi è un problema serio anche perché poi molti non conoscendo il luogo non conoscendo la struttura si basano su quelle recensioni quindi se le recensioni sono buone i clienti arrivano se le recensioni non sono buone i clienti scappano o meglio saltano e vanno da un'altra parte la cronaca invece sulla pagina 7 del Corriere Adriatico ci riporta un episodio avvenuto intorno alle 4 e mezzo del mattino in via Fiorini il titolo è gli strappa il braccialetto poi sfida il ragazzo a duello fuori dal locale arrivano i carabinieri denunciato un giovane Iesino dicevamo è successo tutto nel cuore della notte verso le 4 e mezzo quando la vittima in via Fiorini fuori dalla discoteca stava parlando con alcuni amici e teneva in mano il suo bracciale ora che cosa è successo a un certo punto è passato lì un 23enne di Iesi che a un certo punto passandogli vicino ha afferrato al volo questo braccialetto e se ne è andato via ora questo ragazzo non ha chiamato subito i carabinieri ha pensato di risolvere la questione da solo e ha cercato di in qualche modo di di recuperarlo intorno alle 6 del mattino quindi qualche ora dopo ha visto la persona ha rivisto la persona probabilmente si conoscevano ha rivisto la persona che gli ha strappato il braccialetto ha cercato di dirgli guarda che quello è mio ridammelo l'altro lo Iesino di 25-23 anni per tutta risposta gli ha detto adesso sfidiamoci e quindi a quel punto il pesarese ha chiamato i carabinieri che sono arrivati poi c'è tutto il racconto che troverete sul giornale di oggi a firma di Sabrina Marinelli ma c'è anche un altro in questo articolo un altro episodio che riguarda una festa abusiva che si è tenuta in via Santa Cristina a Riccione dove c'erano anche dei pesaresi ce n'erano diversi di pesaresi a questo party a cui hanno partecipato 400 ragazzi un party a tutti gli effetti perché c'era una console per DJ due punti per bere il bar un braccialetto per consentire l'ingresso e l'uscita insomma e anche un parcheggiatore le verifiche hanno portato alla denuncia di un giovane riminese individuato come l'organizzatore di questo evento e poi hanno sequestrato 3000 euro di incasso oltre a diversi verbali e amministrativi per diverse irregolarità riscontrate questa è la cronaca sulla pagina 7 mentre quella di Fano la pagina di Fano del Corriere Adriatico che abbiamo selezionato per voi riguarda la festa del mare una festa del mare ovviamente anche quest'anno un po' sottotono ma comunque sempre emozionante il problema rimane il porto questo è il titolo il vescovo lo ricorda nell'omelia il prefetto assume l'impegno di sostenere Fano a Roma dunque la festa del mare come scrive giustamente Massimo Fughetti sul giornale questa mattina è la festa più sentita dei fanesi l'ha percepito anche il vescovo che fanese non è ma che da 14 anni è stato sempre presente a questa giornata istituita per ricordare innanzitutto le persone che in mare hanno perso la vita forse 14 anni sono troppi ma comunque questo è irrisolte le questioni di dregaggio deposito di fanghi isola ecologica sicurezza e cantieristica o forse no adesso poi che il tempo vola talmente tanto che probabilmente sono già 14 anni allora tamponamento in A14 invece 5 feriti tutti portati al pronto soccorso ma nessuno è particolarmente grave è una notizia di cronaca è un incidente che è avvenuto sull'autostrada a 14 sud di Fano l'incidente si è verificato a circa un chilometro dal casello di Fano verso Marotta dove un Opel Corsa con tre persone a bordo ha urtato la parte posteriore di una Toyota Yaris all'interno della quale c'erano due persone poi la storia una lite che c'è stata nel pomeriggio di ieri a Sassonia un gommone a motore dalla riva acceso di verbio con il bagnino cioè questa persona probabilmente un non fanese quindi uno che non conosce bene le regole del mare o comunque perlomeno poco rispettose delle regole del mare rispettoso voleva partire dalla riva con un gommone a motore un'operazione come dicevamo all'inizio vietata dalle norme di sicurezza per il potenziale poricolo costituito per i bagnanti dall'elica del motore che può essere attivata solo a largo a pagina 5 invece del resto del Carlino ancora cronaca dammi 7 mila euro o ti faccio chiudere ricatta l'ex datore di lavoro e per questo è stata arrestata ricatto che un imprenditore pesarese con azienda cattolica è un ricatto che ha subito questo imprenditore e che ha fatto però finire in manette per estorsione una sua ex dipendente una 45enne ucraina ucraina a incastrare la donna un audio registrato col cellulare dalla vittima i carabinieri cattolica hanno invece preparato la trappola l'arresto è scattato infatti in un bar di Tavuglia dove l'imprenditore ha dato appuntamento a questa sua ex dipendente di 45 anni per la consegna del denaro andiamo sulla pagina 7 invece di Fano del resto del Carlino ricordo che oggi i giornali escono con gli inserti sportivi essendo lunedì aggredito dal proprietario di un gommone brutta esperienza per un bagnino aveva monito un 48enne che aveva acceso il motore del natante nei pressi dei bagnanti poi l'altra notizia invece è che il camper per fare il vaccino inizia il suo tour da Borgo Pace aperto a tutti e senza prenotazione sotto invece con Massimo Berloni si è fatto un accordo nell'interesse di tutti Michele Chiarabilli conferma l'appoggio all'imprenditore centro-destra con centro-sinistra perché no dice il consigliere che è stato anche vice sindaco e che cosa si aspetta da Berloni sindaco questa è la domanda la risposta di Chiarabilli è a Massimo ho chiesto anzitutto una cosa di pensare in grande come sa fare lui vedo qua e là su Facebook che indica una buca nella strada parliamo di Fossombrone una buca nella strada una lampadina che non funziona le erbalte in una cunetta bene non può essere questo c'è anche questo ma non può essere solo questo dice Chiarabilli non si tratta di rammendare Fossombrone deve riuscire ad intercettare milioni di risorse per cucirsi addosso un abito nuovo e credo che Massimo Berloni di abiti se ne intenda essendo Massimo Berloni il fondatore della nota il famoso marchio Don Dapp e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa è tutto grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia Grazie a tutti